Sì, te lo farò. Augusto! Augusto! Il principe non vuole fare colazione! Mia! Ma questo non è vero latte fresco. Il principe merita granarolo alta qualità, il re del latte fresco. Arriva ogni giorno fresco e naturale dalle stalle granarolo, dove le mucche sono trattate da regine e mantiene tutto il suo sapore e le sue vitamine. E' quello della Lola! Granarolo, la grande passione per l'alta qualità. C'è chi ha l'argento vivo addosso e c'è Silver Care, che ha l'argento vivo in testa. A contatto con l'acqua, l'argento che ricopre la testina sprigiona gli uniattivi che abbattono la carica batterica. Silver Care, lo spazzolino antibatterico con l'argento vivo in testa. Hanno già dato la risposta? Non ancora. Allora, il tempo scorre. Per me la risposta giusta è la C. Peccato, la risposta giusta era la C. Salutiamo comunque la nostra... Chi sa di non avere tutte le risposte. Ora sa dove trovarle. Con Oggi e il Corriere della Sera, c'è la nuova enciclopedia multimediale, Rizzoli Larousse, edizione 2002. È in edicola il primo CD Romi in regalo. Questa però non la sai. Torno subito. Questa però non la sai. 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 Questa però non la sai.